Il pensiero echeliano e l'idealismo in genere sono il punto di riferimento nella seconda metà dell'Ottocento per tutta la filosofia occidentale. Possiamo distinguere alcune filosofie che tendono a mettere in crisi il concetto di panologismo di totalità esposto da Giorgio Egel. Il pensiero panologistico sostiene che tutto sia ragione, pertanto nella seconda metà dell'Ottocento ci furono alcuni oppositori di questo cosiddetto panologismo echeliano e i maggiori rappresentanti sono Kierkegaard e Schopenhauer. Ma accanto a questi oppositori ci furono i sostenitori più o meno delle teorie echeliane, divisi secondo lo schieramento dell'epoca del Parlamento europeo in destra e sinistra echeliana. Il dibattito all'interno della scuola echeliana sostanza in queste due posizioni, quella della destra e quella della sinistra. La sinistra echeliana è critica nei confronti dell'egelismo, la quale appunto sinistra critica il concetto di irrazionalità del reale, il panologismo secondo cui tutto è irrazionale, ciò che è reale è irrazionale e ciò che è irrazionale è reale. Per la sinistra echeliana la razionalità non è un dato del reale ma è un progetto e pertanto i filosofi della sinistra echeliana, il cui massimo esponente è Feuerbach, la religione è sistematicamente negata. Per la destra echeliana, il cui maggiore rappresentante è David Strauss, la filosofia e la religione si sostanziano nella razionalità del reale. Pertanto la religione non viene negata ma viene appunto ammessa, viene convalidata dal concetto di razionalità del reale echeliano.